Gilberto Griguoli, direttore generale del CLN Cusmo Lise, dunque è un peccato perché davvero mancavano pochi secondi, dicevamo poc'anzi insieme anche al mister, ci sono state due occasioni clamorose fallite da voi? Eh sì, c'è un grande rammarico perché è stata una partita sicuramente poco spettacolare, molto tattica, credo che il pareggio tutto sommato rispecchiasse l'andamento dell'incontro e poi questi due gol della Tombesi nell'ultimo minuto ci hanno tagliato le gambe, naturalmente il 2-1 ci ha tagliato le gambe, il 3-1 è figlio dell'aver provato a raddrizzare la gara col portiere di movimento, ma noi la gara l'abbiamo persa qualche minuto prima con un paio di occasioni clamorose che non siamo riusciti a sfruttare. Oggettivamente non è un momento positivo per la squadra, ma ci sono tanti attenuanti, gli infortuni, anche qualche movimento di mercato, insomma ci sono state diverse difficoltà tra sicuramente quelle principali, l'assenza di Barichello. Si fa sentire e non lo possiamo nascondere perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, io spero di riavere il ragazzo a disposizione già sabato per la trasferta di Cassano, dove peraltro sicuramente mancherà Turek che partirà con la nazionale slovacca, quindi per noi chiaramente motivo di orgoglio da un lato, però è una situazione oggettivamente difficile dall'altro e oggi avete notato che Di Stefano a metà del primo tempo ha alzato bandiera bianca, credo che abbia risentito di una contrattura e quindi è da valutare. Barichello ovviamente dovrebbe rientrare, ma con tutte le cautelie del caso, per cui siamo un po' in difficoltà anche numerica adesso. Assolutamente, poi avete dovuto fronteggiare anche un cambio di sede, per l'amor di Dio giustissimo, insomma per quella che è la causa scelta dall'Università e dal Pala Unimol, però chiaramente avete dovuto abbandonare casa vostra. Questa comunque è una cosa che ci fa onore, che ci dà grande orgoglio, perché ovviamente abbiamo ceduto il passo a qualcosa di decisamente più importante di noi e del futsal, quindi ben venga, insomma è stata ben apprezzata la decisione dell'Università di dedicare il Pala Unimol alla vaccinazione. Torniamo un po' alle nostre origini, sia io che il mister, che tanti ragazzi hanno cominciato in questa palestra, un pezzo di cuore per noi è qui, quindi tutto sommato non è un male tornare a giocare qui. Resettare e ripartire, lavorare magari più sulla testa in settimana, perché comunque la condizione c'è, lo hanno dimostrato anche i nuovi arrivati, quindi bisogna stare tranquilli anche perché tutto è ancora in ballo. Allora l'obiettivo playoff è ancora alla portata, è chiaro che abbiamo, come dire, perso, dissipato un po' di vantaggio che avevamo, siamo in lotta adesso con tutti, ci aspettano partite complicate, ma come del resto a tutte le altre squadre del girone, perché questo è un girone molto difficile, dove anche l'ultimo in classifica ha i suoi valori, le sue qualità, per cui sì, dobbiamo un attimo cercare di staccare il cervello da quello che ci sta accadendo in campo, trovare un po' di serenità, di mentalità vincente e con un po' di fortuna anche i punti in classifica che ci servono.